Salve gente, Paul on the plane di ritorno da voi. Benvenuti al secondo episodio della falsificazione nello spazio, nella nostra seconda stagione. Oggi andiamo a focalizzarci sul satellite geostazionario Himawari, dove ci dicono che si tratta di una cosa da capogiro, visto che si trova a 35.400 km dalla Terra e che invia immagine ogni 10 minuti. Sapevate che lo Himawari ironicamente significa girasole? Quindi sì, questa è una prova degli adoratori del modello gliocentrico. Eccolo qui. Perché abbiamo preso lo Himawari oggi? Perché i difensori del modello gliocentrico amano indicare, fra virgolette, le immagini in tempo reale dell'Himawari come prova della Terra Globo fin da quando ci fornisce fotografie ogni 10 minuti e i dati del meteo sembrano essere molto attuali. Sfortunatamente per i terrapallisti andiamo a sgretolarlo completamente e semplicemente nei prossimi 5 minuti mostrandovi come falsificano il tutto. Andiamo subito alla prima prova, ovvia. Per iniziare qui abbiamo il sito web che potete visitare e vederlo voi stessi. Da una nota, l'Himawari è gestito dall'Agenzia Spaziale di Meteorologia Giapponese e trasmesso a noi dalla NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, che fa da server del satellite geostazionario. Trovate tutti i link nella descrizione del video affinché possiate verificare, se lo volete. Quindi se andate alla pagina FTP cliccate per la descrizione del sito ed una volta fatto trovate il file text dove potete leggere proprio qui che tutte le immagini dell'archivio usano i dati impostati delle terre contornate di colore dalla biglia blu della NASA. Sì, proprio così. Quindi l'Himawari è veramente totalmente distrutto giusto qui. Non c'è alcuna vera fotografia che arriva dall'orbita del satellite geostazionario sopra la Terra che fornisce immagini ogni 10 minuti, inviandole giù a noi per farci fare oh! Prendono i dati dalla biglia blu, i dati che, penso ricordate, lo hanno messo anni fa, che si tratta di strisce di dati cuciti insieme da un artista che si chiama Bob Simon e photoshoppate perché dovevano esserlo, giusto? Ma per andare avanti vi faccio vedere brevemente come fanno a generare immagini ogni 10 minuti, che sembra abbiano un metodo attuale e corretto. Ecco quello che fanno. Non prendete le mie parole come orcolate, andate e fate voi le vostre ricerche. Primo, hanno già creato ed archivato immagini trasparenti dal meteor sopra gli oceani con l'uso di un software che simula il clima e che ammettono proprio qui, RCP 8.5 per il 2095, ma in realtà è l'anno 2100 in questa cartella FTP del server. E qui ecco una delle immagini. Proseguendo, altre immagini che potete trovare dove le masse di Terra sono trasparenti, usano questo software simulatore per creare il tempo sopra gli oceani. Voi sapete che i dati meteo arrivano dai radar Doppler a Terra e che è impossibile usare un sistema che si basa sulla Terra per coprire gli interi e vasti oceani. Il meteo sugli oceani arriva dal loro software un simulatore climatico. Secondo, per il meteo sulla Terra la NOAA ha dei super computer che prendono i dati da tutto il mondo forniti dai radar Doppler, li snocciolano tutti insieme e li ricombinano con le simulazioni dei dati sugli oceani fornendo delle immagini complete composte meteo, fra virgolette, della mappa che viene avvolta attorno ad una palla col loro programma del modello software 3D che vi abbiamo mostrato diverse volte nei precedenti episodi con la Terra, i pianeti eccetera. Quindi, quello che si ottiene sono delle immagini composte come questa, creata da un modello di software 3D con i dati correnti Doppler meteo delle terre e le simulazioni del meteo degli oceani appare così. Questa particolare immagine si trova sul server FTP in questi dati di tempo stampata l'11 ottobre 2017 alle ore 11.05 del mattino, una che ho scelto a caso. Osservate le immagini che vi mostra il meteo dell'intera palla, non solo una parte della palla che è illuminata dal sole in questo particolare momento. Nessuna linea di terminazione o simile, giusto? Ok. Ora, questo è un accenno. Andate sulle altre cartelle dove si trovano le immagini che vogliamo vedere come quelle che ci dicono si tratta di immagini vere scattate dallo spazio, ma quello che semplicemente fanno è prendere una immagine della mappa del meteo della palla che hanno creato che vanno a sovraimporre sopra i dati stabiliti dalla Biglia Blue, come hanno già detto di fare. Quindi quello che si vede qui è la versione finale che ci hanno passato dicendoci che è una immagine dell'Imawari dallo spazio di 10 minuti fa. Questa è la stessa immagine di date and time dell'11 ottobre 2017 alle ore 11.05 del mattino, dove potete vedere che il meteo è esattamente lo stesso. Osservate attentamente. Questa è la vostra immagine composta dalla simulazione di Radar Doppler che vengono usati per completare la composizione dell'immagine. Fanno questo anche con il Satellite Discover, la macchina fotografica di EPIC a milioni di distanza, come si raccontano. È ridicolo. Ok. Ora, notate anche che l'immagine finale ha la linea di terminazione che viene aggiunta per farlo sembrare una fotografia reale dallo spazio, ma che inchioda l'Imawari perché i dati del meteo si vedono su tutta la palla, completamente, ma devono aggiungere la linea di terminazione per far vedere che la Terra è illuminata parzialmente dal Sole, secondo l'ora e il giorno in cui si presume venga fatta la fotografia. Pertanto, se questa è una foto reale, come possono sapere dove mettere le nulle e il meteo sulla parte del globo che non è illuminato dalla luce del Sole. È completamente buiola. È tutto qui, gente. Lo spazio è fazullo. Ehi, lo sappiamo da molto tempo che i Radar Doppler, che con la simulazione del meteo con il software, hanno creato l'immagine corrente, avvolgendola attorno alla palla con un software in 3D, incollandola su uno sfondo nero come fanno con tutte le altre, aggiungendo la linea di terminazione, per poi chiamarla la foto reale dallo spazio. L'Imawari, sbantellato una volta per tutte. Qui è Paul on the plane, grazie di aver guardato. Grazie a tutti.